bello ragazzi sono king's live corporation e oggi siamo qui su questo un videogioco un altro bellissimo videogioco ragazzi seguitemi su instagram su youtube e su twitch come king's live corporation e oggi andiamo avanti però prima vi devo dire una cosa una cosa molto importante ovvero che su youtube metterà una reaction di tanto in tanto di alcune cose per esempio è uscito il trailer di shang chi ok e la leggenda dei dieci anelli io siccome non è che voglio fare la monotonia di portare solo videogiochi in live ho deciso pure di portare anche un po di reaction perché no è giusto così quindi stamattina farò una live meno forse forse oppure porterò due live non lo so però la reaction la vedrete uguale anzi no stamattina mi porto due live farò una live di pomeriggio però stamattina faccio due live e la reaction così almeno però intanto aspettate un attimo che c'ho da fare intanto ci vogliono un paio di minuti ragazzi un attimo che c'ho da fare Grazie a tutti. Scusate, sto facendo una cosa molto importante. L'ho perso? L'ho perso bene. Scusate. 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 Sto gameplay. Infamous. Subito. Con Horizon Zero Dawn. Così. Stamma la macchina. Allora. Missione. Vai. Scusate. Ti saluta anche la mia gatta eh? Scusate. Come al solito. Eh sì. C'hai ragione. C'hai ragione. Eh va bene. Eh. Eh. Ah. Questo è proprio il trailer? Sì. Questo si dimmerda non lo voglio fare. Se è di colme cat si perché mi piace il giacchetto. Anzi, vediamo un po' se sulla mappa Allora, il DSI dovrebbe stare da questa parte Se non vado errando In teoria Sì, in teoria Vabbè, allora quindi tocca fare questa missione Un frammento, tre potenziamenti, ma davvero? Sorbineon Ah, la gianneon, dai Obiettivo invisto, là sopra Questa voce di The Rock Oh, pessima mossa Sarà fantastico Bello Torrette automatiche Ma così non vale E' un tempo qua, l'altro sono morto Quindi il loro tallone d'Achilla era il di dietro Sì, stavo a cucinare di mamma Devo continuare a saltare da una torretta a un'altra No, non mi dico la frase Non me la dime più, eh Che mi è venuto l'incubo No, 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 no Quegli affari non perdono Così si fa Ok Exacte Exacte Ancora c'era una Ah, la vedete qua, eh Exacte No, bravo Mi stanno sparando grosso No, no, no Spettaculare Quale è matto Marco Donnie E' famoso Fra il matto Ok Questa sì che è un bel salto La macchina non mi serve ora Meno che mi la usi come rampa di oggi Avete deciso di non nascondervi più dietro i vostri giocattoli, eh Aspetta, ma se io mi vuoi assorbi il potere del fumo non posso Vai, vai, vai Su disci Ehi, finito Ehi, Patch Ho lasciato una scia di cadaveri lungo tutto il ponte, Patch Le donne hanno la loro scarsa attenzione Niente Ok, me lo soppiammato Perché Io Allora Io ho una gatta, no? Come tu ben sai Però Ho un problema Sono allergico a pelo Purtroppo E ti dirò di più Sono allergico anche a materiale sintetico Quindi La mia La roba sintetica non la posso più tocca Solo roba di cotone Not songs Purtroppo Purtroppo Che savile Allora Purtroppo il fumo non ce l'ho più Ah, qui docca gestirla, eh Ti hanno fatto i ponti per starti così sul culo Quindi mi riconosci Ah, sì, sì Sei quella che un paio di settimane fa mi ha colto in flagrante Mi ha lasciato andare Mi ha lasciato andare Sei cambiato da allora Per ora mi ha servito a poco Mi ha lasciato un po' di fumo non ce l'ho più a fare Mi ha lasciato un po' di fumo No, 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 no No, no, no Cristiano Romeo Ora finisci il grosso indivinuo di cemento e potremo ballare Diavolo quanto sei grosso Oh madre La possiamo far culo Non sta neanche in solletico Coglione Coglione A posto? Ok forse ho un po' mentito sulla questione del Leon ma potrei farci risparmiare un sacco di tempo Devo solo assorbire un po' del tuo potere Mi stai chiedendo di regalarti il mio potere? Beh no, non tanto da inabissare un ponte ma abbastanza da togliere le tue lame di cemento dai miei amici Dopodiché non mi rivedrai mai più Io ho un'idea migliore Non mi saresti d'aiuto là nella tua baracca Perché non resti qui con me? No, preferisco la mia idea Mi deludi? No Luce divina E ci ha salvato eh Ed è una luce divina perché è mento quindi Cioè questo c'è i poteri del videogioco raga Bellissimi Evoca Kratos Joel Nathan Drake Cioè è un po' dura Ok 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 a ecco finalmente la mia meta il quartiere lanter il giro la prova con sorbito dell'euro che fa qua sopra un fatto non vabbè qua ci vuole volo guarda 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 che bella sta è bellissima cioè la bolla sta si ah il fumo però è il fumo no mi ha capito male c'è uno vai di grande stile che fa podri del cemento come attacco corpo a corpo non è male eh una bella boccata vai è condotto è condotto è condotto no 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 così, bella per Dezzy, e boom, ehi sono dove va, non posso fare la missione perché devo fare il DPD là, giusto? E facciamolo! Oh ok Un momento, un momento solo 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 Un momento solo Un momento, 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 un momento, un momento solo Un momento, un momento, un momento, un momento... Un momento, un momento, un momento... Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento... Un momento, un momento, un momento, un momento... 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 Un momento, un momento, un momento, un momento... Un momento, un momento, un momento... Un momento, un momento, un momento... bello mi spiace ma ho altri impegni a a a a a mato non è morto no via 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 via, fuori 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 no 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 no, ah, questo mi serve un fumo devo fumare fumo, fumo fumo passivo, uccide cristi ah ah all'umore ho trovato il primo autobus, ma è vuoto ce ne erano tre sul cavalcavia, dunque ne mancano ancora due eh, io ho grande fan sei ancora lì mi voglio un primo contrattempo ce ne sono troppi, sono uovo è vabbè facile sta missione, dai e assorbino dai, così facciamo questo è un po' più velocemente eh voglio usare pure sopra ma cazzo sarà va bene questa stessa no da l'alto, ce ne sono diversi nooo Non c'era nessuno Ti giuro che non c'era nessuno Ma cazzo sempre No, 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 trovi il mio condotto Dove stanno? Gli attacchi provengono dall'alto, sopra di noi Eccoli, eccoli, eccoli Error, questi mostri devono essere opere a sua Lasciate stare gli angeli, uccidetelo No, vabbè, scusami Vedo un sottometti Ah, pure luce, sai Non te ne sgogli Dammi questo fumo Veloce, veloce Eh, vabbè Sto avvinello, vai No E' andato Eh, vabbè Ah, fa' il culo Sto avvito Ok Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Non mancano come Angeli E' uno scherzo, vero? Significa Occhio uno dei franceschi può generare angeli Ma sto dando la caccia a Dio E nel secondo caso non ho molte speranze Ah, ma guarda quanti rossi, eh Non sapevo io Non sapevo Potenziamenti È il momento di potenziare un po' Eh, io devo Devo prendere molte cose Perchè devo fare raggio al fosforo No, volevo assorbire il neolo Oh, grazie del consiglio Ma dove ti hai ricacciato prima? Ehi, forse i concetti sono serbi Ma a noi comuni mortali sì E dove hai ottenuto queste informazioni su ciò che succede? Il quartiere Lander di muri hanno occhi e orecchi Diciamo che ho delle amicizie in alto Sembrano amici potenti Difficile immaginare Questa ci voleva Ok, già so che devo potenziarmi però Prima di continuare a fare missione Devo potenziarmi del botto Devo fare un po' di potenziamento Ok, è già primo Passa qui proprio Facciamo pure azioni pure buone Sei troppo forte Ah, ok 8 falmenti Vai, potenziamento Ranti a fosforo Eh, richiedono sui frammenti Buon l'esseremo, vai Ora tocca fare un sacco di missioni secondarie Perché devo alzare a meno un po' Il palatino Così a meno posso avere la corsa infinita dei cazzis Sa che bunch Oh, attenzione Lester egg È un essere egg Sa che c'era scritto Sucker Bunch Oh, posso Posso disegnare È bella sta cosa Bella Bella, bella Dove sono in un secolo Wow, chi saranno mai Oltre a presepec È una bamboletta spray Ok, così ci siamo aumentati Poi vado pure a sconfiggere il DOP Perché è giusto così Libera È libera Vai Eh, va bene Subito alla caccia Ma che so io Eh, va bene Che c'è mi amare mai è visto? come si fa? eh modice eh pure allora ho capito va ho capito non ho neanche assorbito via via no raga proprio se non fa più gius eh modice no non posso assorbire questi come cazzo posso andare? non andando sopra non andando sopra e non ma fumo va bene uguale dai la testa a fumare è ahhh a wincher è putto debole ecco qua eh no corri ehm schiatta mori mori c'è mezzo pure nell'ultimo vai ahhh ahhh ok assorbiamo in ugli qui è il primo è il primo è il secondo il terzo è il quarto questo questo fumo si può pure assorbire però vedi come si fa? che fa? fa un bug vedi che fa? un bug vedi potrei pure assorbire il fumo però non posso l'ho visto l'ho visto l'ho visto l'ho visto no palo girete 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 bravo e ora potrei provare la missione però se faccio la missione può darsi che faccio troppo tempo il drone il drone il drone no eh vabbè che è? eh vabbè c'ho dovere di prestito la meteo qui vabbè raga ma che è? eh vabbè non è dai no niente eh stavo e io lo prendo eh guarda sull'anticipo sorpresa niente e dai dai no 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 fin... io perché mi sono trattenuto perché sennò qui finiva male ah no c'è un altro drone su però mi sa che mi devo arrampicare quando sono stessato guarda guarda no no... non si arrampica ok come fa come fa non arrampicarsi bestia vai ma adesso lo fa la scorza di tutti i frammenti del cristo res no ok non stava sotto stava sotto no stava da qua però sta sopra no ah ho capito dov'è eh io l'ho capito eccolo lì ehi eh ne hai abbastanza eh hai capito che so forte io eh bravo ok vai no flana flana ma ma quanto avrei tracing sta cosa quanto eh certo io che volevo volevo il fumo no ok no va bene tanto è uguale non mi cambia mica ok e avevo trovato un altro jackpot vai vai oh Sì Allora continuiamo Ok ma dai manca un pezzettino dai dai Prima di finire la live voglio arrivare a meno Come si è fermato? Ciao bello Allora potenziamoci Ricarica veloce va benissimo Poi dopodichè Ok poi questo Ho bestemmiato eh tu non mi hai sentito ma ho bestemmiato forte Eh perché c'è gente che fa casino Porca troia Eh io sto a fare una cosa Un'altra volta questo Ti ricordi a questo? Un'altra volta non mi è passato Ah no sto fuori dal range Sì sì soffre del dolore È lui? No Ehi! Ah! È proprio la sua volta del becco Questa volta sono veloce Cupà Ehi! Oh lo sei! È proprio giuro No 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 Ehi! Cambia lavoro o peggio per te E infatti cambia lavoro Basta! Ok Ah ah Eccolo qua Preso Ok andiamo a fare la droga No nel senso Vabbè Belli ragazzi! Cosa? Breaking Bad Così l'è scritto? Breaking È breaking forse Sì Eh vabbè Vabbè gli sti errori Che Che ci frega Ah! Qua è vero Riduci Non stavano cercando a me? Preso! No! No! Ok! Uno Due Vai poi Stasi vai Eh! Non puoi mica fuggire per sempre L'altro Stasi vai Che bella questa Puoi colpire su tutto il corpo Bella bella Ehm No la missione non la devo fare adesso Ho già Ho già Ho già Ho già Ho già Ho già Allora fammi parlare Ho già Ho già Chiamato la live Il nome di questa live Tra potenziamenti E fan misteriosi Guarda che lo prendo Guarda che lo prendo L'ho preso Ah! C'è un nome a favore di questo reddop Va! Eh! Esagerati Qualquanto forti! No 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 Devi stare fermo Devi stare calmo Andiamo a fare questo va Dai! Forte Ok Uno Vai! Antenna Antenna Bravissima Devo andare sotto Sì tanto devo andare sotto Eh va bene Adesso fai Ok Coglioni Sono più potente io Sono più potente Un attimo solo eh Un attimo solo eh Raggio a fosforo Vai Fai subito sta cosa Subito subito Vai Se no questi mi rompono le palle Corri 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 E vai Allora Olè Così se fa Eh! E' qualcosa ribalzato Assorbi Uno Due 3 e 4 pensavo che si era buggato spara quanto vuoi ok ragazzi io salvo la partita qui ok dopodichè ci vediamo tra poco qual è il tuo genere preferito di che cosa del gioco vabbè ovviamente azione ah de musica anni 80 sono all'antica mi piacciono gli anni 80 le musica di adesso fanno tutte cagare quindi vabbè signori ringrazio per esempio per avermi fatto compagnia tra poco ci sarà un'altra live e niente ci vediamo tra poco vi ricordi di seguirmi su instagram su youtube e su twitch come kingslave corporation e tra poco grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti